tutto il calcio minuto per minuto a cura di Marco Martegani. Gentili ascoltatori buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio Uno Rai penultima giornata di campionato di Serie A con situazione definita in fondo alla classifica già retrocesa Messina, Lecce e Treviso attesa per la volata a scudetto e qualche nodo ancora da sciogliere per quanto riguarda le squadre in lizza per la qualificazione alle prossime coppe europee. C'è insomma quanto basta per pronosticare una domenica di sana e accesa passione sportiva ma inutile fare gli struzzi c'è anche lo sgomento per quanto accaduto in settimana con la rivelazione dell'imbarazzante contenuto di alcune intercettazioni telefoniche e la conseguente apertura di inchieste che interessano sia la giustizia ordinaria che quella sportiva. C'è solo da augurarsi che venga fatta al più presto chiarezza nell'interesse di tutti di chi è chiamato direttamente in causa e di chi paga indirettamente le conseguenze di una mancanza di credibilità che rischia di essere letale per lo sport in generale e per il calcio in particolare. Ed è appunto con questo auspicio di chiarezza che apriamo la trasmissione.